Aiuto, la cosa che mi preoccupa di più Io ho paura del futuro moltissimo Di non trovare un posto di lavoro Di non trovare un posto nel mondo magari Quindi come ti senti che dopo domani ti devi laureare? Penso che la laurea sia la fine di un percorso E' un bellissimo momento secondo me Principalmente per se stessi E' bello festeggiare e condividere quel momento Insieme alle persone a te più cari Venivo da sette anni a scuola In cui avevo perso due anni di seguito Avevo fatto tre volte la stessa classe I compagni in una classe sono fondamentali E cambiarli così tante volte a quell'età Non fa bene Io ho sofferto tanto Però poi devo dire che è stato incredibile A quanto nell'ultima classe che io ho frequentato Ho trovato veramente delle persone Che mi hanno fatto capire quanto valessi Almeno 5 anni fa forse direi di star sereno Quello che mi rende più fiero Che prima stia bene l'altro E io possa star bene vedendo l'altro Che sta bene Allora cosa mi preoccupa di più Stai ridendo Ma ti preoccupa Che ti ha situato Qu'è quanto per la browse Che 77 Che Chi Chi